Ciao, ti sei iniziato ai registri Akashishi, forse con me, forse con un'altra maestra o con un altro maestro, non importa. Forse nel giorno della tua iniziazione hai sentito un'energia meravigliosa avvolgerti e hai conosciuto l'energia di Akasha. Poi magari nei giorni successivi hai perso quella connessione, non è stata più così forte, non è stato più così semplice riaccedere al piano Akashico. Per questo ho deciso di creare il riallineamento Akashico. In questa esperienza avrai una parte teorica molto breve e una parte pratica, perché Akasha è amore, è guarigione e quindi andremo a riallineare tutto il tuo corpo, sia a livello fisico che a livello eterico, da un punto di vista Akashico. Ti guiderò in una meditazione profonda che ti congiungerà al livello Akashico. Può succedere che quando si è stressati, si è preoccupati, si è avuto una brutta notizia o si è avuto una mente molto razionale, si perda la connessione Akashico. Però questo non vuol dire che non si possa più riaccedere ai propri registri. Quindi se stai riscontrando questi problemi, puoi fare il riallineamento Akashico e potrai rifarlo tutte le volte che vuoi e che lo desideri. Ti aspetto e ti auguro tanta 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 tantissima luce. Ciao!